ciao a tutti amici e amiche del genuano atipico oggi voglio parlare del mister e anche un po al mister in parte l'ho già fatto in un video precedente che vi lascio qui sopra nella i di informazioni perché perché un po mi rifarò anche a quel video però oggi invece non voglio farlo per ipotizzare o per confrontare o per fare diciamo del sì dell'analisi ma soprattutto del dell'azione delle ipotesi appunto voglio invece fare dei complimenti voglio fare dei complimenti all'uomo e al mister in questo momento perché perché credo rimeriti per la crescita che sta avendo una crescita che come avevo già detto in video precedenti mi ha piacevolmente sorpreso mi ha anche piacevolmente smentito perché se vi ricordate appena arrivato in prima squadra io dissi l'unica paura che ho è quella che si bruci la carriera così non è stato così addirittura non è posso dire e sono ancora più felice di vedere i frutti che sta portando a se stesso ancora prima che al genuo sono felice per prima cosa per lui ora come in questa prima parte del concetto poi ovviamente sono anche felice per il genoa ma ora ci arrivo perché quello fa parte della seconda parte di complimenti che devo fare dicevo sono felice per lui perché ho visto soprattutto una persona che per quel poco che ci siamo conosciuti barra chiamiamolo frequentati mi passerò al termine la società e anche il mister apelli sia quando era giocatore sia quando era poi è diventato il nostro allenatore in prima ho ritrovato in tutte e due le versioni tra virgolette di di girardino lo stesso uomo cioè un uomo chiaro un uomo onesto un uomo che potrei definire a parte che a parte gentile disponibile questo giustamente va detto ma soprattutto un un uomo perché non voglio dire un mister un giocatore perché non cambia nulla in questo senso ma proprio un uomo che è sincero ecco soprattutto sincero sincero in tutto quello che esprime nel bene e nel male è un uomo che soprattutto sa dosare i toni e questo poi ci arriviamo cosa intendo dire anche nella parte quando ha da criticare o da o da stimolare comunque un una certa parte l'ha fatto con la panchina in certe conferenze stampa e se non erro ne abbiamo anche parlato l'ha fatto poi anche quella società e di questo ne ho parlato proprio nel video che vi ho lasciato prima qui sopra in descrizione in un secondo momento ma sempre con toni pacati giusti e mai fuori luogo a mio avviso quindi questa è la prima cosa per cui devo farli assolutamente i complimenti la seconda cosa per cui devo fare i complimenti collegata in buona parte alla prima è invece la crescita che sta facendo fare la genoa perché ha cresciuto bene i giovani che adesso stanno giocando con mister agostini ha cresciuto bene la parte di squadra che è rimasta della serie b alla serie a e che comunque sta formando la la base diciamo lo giocolo duro della squadra che ora stiamo vedendo in in serie a e sta formando ancora di nuovo di nuovamente un gruppo solido un gruppo unito una vera propria famiglia eh che nella quale non sembra che nessuno si senta eh escluso o secondario questa è un'ottima cosa che di solito ci si aspetterebbe forse da gente esperta più esperta di di panchine diciamo così ma che vista da un allenatore come lui ancora fa ancora più piacere a mio avviso al di là ora della squadra che ovviamente eh se ci metti in mezzo anche il discorso squadra fa ovviamente piacere parlando del nostro genoa eh quello che però mi ha stupito piacevolmente eh che non posso non sottolineare in questo senso è il fatto che mh abbia utilizzato anche anche in in questo in questo eh senso la la comunicazione l'ha utilizzata prima credo all'interno poi all'esterno del dello spogliatoio tant'è vero che da quando eh la panchina o comunque quelli che giocano meno sono stati stimolati a mezzo stampa o a mezzo conferenza stampa abbiamo visto anche eh delle ottime prestazioni o comunque delle buone prestazioni per quello che era ciò che gli veniva richiesto da parte di coloro che giocano meno eh l'ultimo in ordine dovrebbe essere eh proprio Kaleb Ekuman che eh proprio contro lei ci ha fatto quel quel straordinario gol ma nelle partite precedenti un assist e un altro gol eh quindi si è visto un Ekuman diverso da quello che era stato fino a quel momento criticato da tutti noi o comunque la buona parte di noi eh tifosi e spero che continui così anche con anche sugli altri mh altro aspetto e ultimo aspetto su cui vorrei fare i complimenti a mister Gilardino e poi vi lascio al video testimonianza di quello che sto dicendo è la chiarezza mediatica anche lì anche lì una chiarezza che eh è fatta senza toni troppo polemici senza toni soprattutto maleducati o quant'altro ma con toni che hanno eh come secondo me finalità e questo l'ho già detto forse una volta legato alle parole di Ottolini lo ripeto legato alle parole anche di Gilardino hanno la finalità di avere più destinatari come quasi tutte le comunicazioni che vediamo dai nell'ambiente calcistico sportivo eh farlo però coi toni giusti la cosa è una cosa importantissima e proprio nella vigilia di Genoa Lecce dopo la presunta polemica con la società Gilardino ha usato parole che ho sintetizzato in due clip ringrazio il Genoa per avermi permesso di clippare questo questa conferenza stampa eh in due clip in una l'ho tagliata perché ripetevo concetti che poi faccio che si vedo meglio nella seconda eh nelle quali però secondo me i destinatari sono due un po' l'ironia c'è ancora un un messaggio alla società quel lo lo sentirete poi sono stati veloci detto al giornalista per questo che ho lasciato anche la domanda del giornalista ma eh oltre a quello c'è anche però il chiarimento ai tifosi cioè ragazzi la situazione è questa la eh la io e la società stiamo andando in quella direzione quindi non c'è alcun conflitto non c'è alcuna situazione di questo tipo c'è semplicemente eh la consapevolezza che dobbiamo avere tutti di una determinata situazione che ora lascio ovviamente alle sue parole alla fine di quel video rimanete con me perché eh faccio un'ultima considerazione quindi vi lascio il video e poi ultima considerazione finale mister abbiamo visto ieri insomma tu avevi fatto avevi chiesto un po' di eh lucidità e di velocità su mercato eh sono stati veloci eh sono stati veloci avete visto abbastanza al momento siamo vigili io come avevo detto eh mese fa credo in una conferenza eh dopo una partita noi non dove non dovevamo e non dobbiamo stravolgere la squadra e naturalmente eh è avvenuto tutto velocemente tra infortuni e situazioni eh che avevamo e abbiamo bisogno sia a livello di caratteristiche a livello numerico eh di giocatori pronti eh siamo vigili se ho parlato alla società e se dovesse esserci l'opportunità di migliorare in con alcune caratteristiche in alcuni reparti eh lo faremo. Io mi sono confrontato in questi giorni con la società col col direttore ed è stato molto chiaro quindi la politica societaria è questa perché siamo andati a prendere cittadini anche io eh France sono tutti giocatori molto giovani che hanno fatto poco la Serie A e questo è un aspetto che io lo so tutti devono sapere è importante che nella realtà del Genova lo deve sapere eh abbiamo giocatori di grande di prospettiva giocatori dove io insieme allo staff dobbiamo lavorarci quindi ci vorrà tempo e bisognerà anche dargli tempo di sbagliare perché se questi giocatori magari giocheranno e magari eh non saranno al top ma magari questi giocatori fra due o tre anni potranno fare davvero eh le gioie del Genova e quindi bisogna bisogna avere la pazienza di aspettare questi questi tipi di giocatori. Ho voluto fare ancora quest'ultimo pezzo conclusivo perché credo che nelle parole di Girardino ci sia un chiarimento anche rispetto a parole passate dei 777. Mi spiego meglio. Eh tutti abbiamo o molti di noi hanno preso le parole dei 777 come un modo per dire puntiamo da subito a chissà quali obiettivi all'Europa o chissà dove. Beh in questo c'è eh nelle parole di Girardino invece c'è un messaggio ben diverso ovvero probabilmente consci di aver fatto a qualche tono all'inizio della loro avventura appena arrivati eh adesso invece hanno fatto capire sia con le parole di Blaschett talvolta travisate o talvolta ricordate solo in parte sia ora con quelle di Girardino che eh sì si vuole arrivare sempre più in alto ma come dicevo io già da tempo step by step ovvero con la prospettiva con la crescita di nuovi giocatori con io quello che io chiamo il modello udinese anni novanta o il modello Atalanta attuale eh ovvero un modello in cui sì si possono anche vendere uno o due big a stagione ma poi si rifà la squadra con i giovani lì si fa crescere e si punta sempre più in alto. Questa era secondo me da sempre la loro idea di calcio in Italia e forse non sono in Italia e questo probabilmente era quello che volevano trasmettere. Hanno sbagliato all'inizio della loro ehm della loro avventura qui a Genova? Probabilmente sì sono stati facilmente travisabili eh le loro le loro intenzioni o le loro parole o meglio eh si sono autotravisati in un certo senso da quello che volevano esprimere a quello che poi hanno in realtà ottenuto ma ora credo che tutti abbiamo ancora più chiaro grazie al mister e grazie anche a Blaschett bisogna dire la verità in precedenza per chi si ricorda tutte cioè tutta la complessività della delle varie dichiarazioni del nostro amministratore delegato eh la strada da percorre quale sia quindi testa bassa a lavorare e soprattutto giocare anche in prospettiva perché ovviamente quest'anno non è un fallimento non arrivare in Europa arrivare già decimi secondo me o noni sarebbe già ottimo dall'anno prossimo si punta sempre più in alto ovvio se arrivasse già in Europa sarebbe ottimale l'anno prossimo eh se arrivasse un punto sotto l'Europa comunque è dimostrato di voler sempre più una crescita questa è la mia idea fino a questo momento ovviamente eh durante la prossima stagione avremo modo di ragionarci ancora meglio detto questo un saluto a tutti dal vostro genoma tipico al prossimo video che probabilmente sarà quello sul film sul docufilm un saluto a tutti ciao